Chi ha un buon senso dell'olfatto? Donne e uomini. Le donne generalmente hanno un senso dell'olfatto migliore degli uomini, specialmente quando si tratta di odore corporeo. In uno studio in cui a uomini e donne è stato chiesto di sentire odore di gocce di sudore mescolato con profumi, solo due delle 32 fragranze utilizzate hanno bloccato l'odore di odore corporeo per le donne, e 19 litro anni bloccato per gli uomini. Le donne sembrano avere un senso dell'olfatto migliore degli uomini a causa dei loro livelli più elevati di estrogeni o perché il sudore contiene importanti marcatori sulla compatibilità genetica in un compagno. Altri fatti sull'odore. Le persone in genere possono identificare i loro familiari per il loro odore corporeo, sebbene funzioni solo per i membri della famiglia biologica. Per esempio, le madri in genere non riescono a identificare i loro figliastre dall'odore, anche dopo aver vissuto con loro, essere innamorati influenza in modo significativo l'olfatto delle donne. Quando le donne sono infattuate o molto innamorate, hanno un tempo molto più difficile riconoscere l'odore corporeo degli amici maschi, ma la loro capacità di annusare il loro partner non è influenzata. Anche se gli uomini odorano le cose in modo molto diverso dai cani, il loro senso dell'olfatto potrebbe non essere poi così peggio di quello dei cani. Negli esperimenti, gli esseri umani sono in grado di seguire scie di profumo più di 32 piedi, circa 10 metri.